Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo. Oggi rispondo ad una persona di Madrid, Spagna, che mi fa questa domanda. Dottore, nel mio rapporto di coppia, dopo i primi tempi, siamo passati dalla passione alla routine. Volevo chiederle se il subcosciente è responsabile di tutto ciò e cosa si può fare con l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo. La risposta a questo signore e anche a te che mi ascolti la seguente, che agli inizi esiste il mistero, la passione, non ci si conosce bene, per cui tutto è bello, si entra in una forma, in una specie di trance, in cui tutto il resto non esiste, esiste soltanto gli occhi del tuo partner, della tua compagna, del tuo compagno. Superato questo periodo di passione subentra la routine. Perché subentra la routine? Perché il tuo subcosciente è stato tarato a comportarsi come si sono comportati i tuoi amici prima di te, i tuoi genitori e chi più ne ha, oppure i tuoi personaggi preferiti in TV. Che cosa si può fare per riaccendere la fiamma della passione nella coppia? Utilizzare il proprio potere mentale, il proprio subcosciente, con l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola, anche con un solo audio MP3 DCS, come ego entusiasmo, un vero e proprio capolavoro che proviene direttamente da Los Angeles Baby Hills, oppure, non passato negativo, oppure altri audio MP3 DCS senza neanche fare sessione online di ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola, o anche audio MP3 DCS relativi alla sessualità, perché anche il sesso è legato alla passione. Soltanto te sai il motivo, vero o non vero, che il tuo subcosciente si ripete, si rivede come in una sala cinematografica, per cui hai l'imbarazzo della scelta. Però una cosa è sicura e certa, che la tua passione, la tua voglia di lei o di lui è scesa, è scemata, la tua libido è scemata per colpa del tuo subcosciente. Anche se tu non vuoi, anche se ti dai una spiegazione logica, come l'età, sto invecchiando, eccetera, sono tutte bagianate. La prova del 9 è che se tu guardi, ti guardi attorno, vedrai tanti conoscenti o sconosciuti che anche ad un'età avanzata sono molto più attivi dal punto di vista della passione con la propria moglie o il proprio marito, a prescindere da tutti gli altri valori o a parità di condizioni. Per cui se hai questo problema dove la tua passione è calata e scemata, la libido anche e vuoi riaccendere la fiamma che ti ha portato ad innamorarti di lui o di lei, utilizza il tuo potere mentale con l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola unica al mondo. Poi, siccome ho sospeso le sessioni online di ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola unica al mondo, siccome per problemi di tempo e di impegni tu puoi anche andare da un professionista dell'ipnosi della tua zona, della tua città, dovunque tu abiti nel mondo, è importante che questo professionista abbia già affrontato a casi come il tuo e iniziare per non spendere soldi inutilmente. Ok? Fammi tutte le domande del caso, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi autoipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di CS del dottor Claudio Saracino e fa share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che ti può e gli può cambiare la vita perché l'ipnosi di CS serve anche per chi non vuole o chi non può essere aiutato e seguimi gentilmente anche sugli altri social Instagram e Twitter benessere ipnosi soluzione di CS del dottor Claudio Saracino. Un bacio e un abbraccio amico a mia amica mia e alla prossima dal dottor Claudio Saracino, la tua, ciao.